...i bagheresi che si sono distinti su diversi campi lavorativi e che sono stati premiati alla manifestazione i bagheresi San Giuseppe, lavoratore nell'ambito della festa del patrono a Villa Cattolica. Green Rail è una start-up che ha brevettato, progettato e brevettato in 80 paesi del mondo una nuova tipologia di traversa ferroviaria. Le traverse sono quelle strutture che compongono i binari, Green Rail realizza tramite l'utilizzo di plastica riciclata e gomma dal riciclo di pneumatici fuori uso. Io sono bagheresi, sono bagheresi da generazioni, sono felice di questo riconoscimento e ringrazio il sindaco Tripoli e il comune, tutti gli assessori per questo prezioso riconoscimento. Sono onorata di prendere questo premio perché il premio si chiama i bagheresi per far conoscere Bagheria al di fuori della regione Sicilia. Io scrivo libri e credo che avendo girato lungo e largo l'Italia abbia portato il nome di Bagheria appunto per tutta la nazione e sono onorata e sono fiera di prendere questo premio. Abbiamo inaugurato un premio, un premio i bagheresi che di fatto dà un riconoscimento a tutti i nostri concittadini che di fatto sono ambasciatori della nostra città. Grazie alla loro attività, al loro intuito hanno fatto conoscere Bagheria fuori dalle proprie mura. Quindi ci sembrava doveroso proprio in questi giorni che festeggiamo San Giuseppe, il patrono dei lavori, dare un riconoscimento a questi lavoratori che grazie alle proprie arti nel settore dell'imprenditoria, della gastronomia, hanno fatto conoscere e fanno conoscere Bagheria fuori dal circuito regionale e quindi a livello nazionale ed europeo. Cittadini che continuano a vivere Bagheria, che hanno messo su famiglia e con modestia ed entusiasmo lavorano sul nostro territorio. Il riconoscimento che noi diamo come amministrazione ma come città di Bagheria è anche un anello di congiunzione tra il cittadino, la città, l'amministrazione e il mondo. Quindi questa è una ricorrenza che noi stiamo inaugurando ma che negli anni sono sicuro che verrà continuata e verrà ripetuta nel tempo.